Siamo all'interno della sala pratica e informatica del centro di lavoro inaugurato questa mattina al centro Orselli dei Salisiani di Forlì alla presenza proprio del presidente della regione Stefano Buonaccini ma anche di altri esponenti politici come l'onorevole Marco Di Maio. Direttore Barberio, giovani, formazione e lavoro, queste le parole chiave di questa giornata che sicuramente è importante non solo per Forlì ma anche per l'istituto Orselli dei Salisiani. Sì, ci troviamo protagonista all'interno di questo centro di formazione professionale, all'interno anche di questa opera che vede l'istituto Salesiano Orselli con circa 100 convittori, il centro di formazione professionale con circa 170 lievi di 22 nazionalità, oratorio, sala San Luigi, palestra. Sì, per noi salisiani siamo vocati poi alla formazione professionale e al lavoro e siamo all'interno di una regione dove vede protagonistico attraverso le politiche attive del lavoro e allargire diversi finanziamenti pari circa ancora per 52 milioni di euro, questo fa sì che i ragazzi possano specializzarsi in una manualità che poi è accessibile al mondo del lavoro. Pertanto qui dedichiamo molto tempo, abbiamo un team giovane di formatori, questo qua è tra cui attingiamo le nostre proprio riserve per poter poi far diplomare questi ragazzi che a stavolta diventano nostri collaboratori. Ecco, i salisiani sono formatori per eccellenza, una formazione storica e in sostanza in questo caso formazione possiamo dire che coincide anche con integrazione, integrazione sociale? Sì, le cose non possono essere digiunte, integrazione è uguale a formazione, al lavoro, alleanze, a partecipazione, a opportunità educativa, non esiste. Esiste una nazionalità per quanto concerne il modo loro di operare, di agire, non per quanto riguarda una discriminante. E poi Don Bosco, noi siamo figli di un santo che già nel 1852 firmò il primo contratto di apprendizzaggio, cioè fu il primo a riconoscere diritti e doveri da parte del datore di lavoro ma anche da parte dell'utente. Le nostre qui non c'è un problema di integrazione, laddove se ne parla vuol dire che il problema c'è. Per noi il problema non sussiste in quanto c'è l'uomo al centro con le sue risorse, con le sue riserve naturali che sono notevoli. Presidente, l'inaugurazione di questo centro di lavoro e poi in seguito anche del laboratorio qui dai salesiani a Forlì ci dimostra come appunto mondo del lavoro, formazione, giovani e integrazione siano un ottimo connubio. Assolutamente, intanto mi lasci fare un grande apprezzamento al centro Don Bosco, ai salesiani, a questo straordinario lavoro che stanno facendo inaugurando anche nuove macchine modernissime e nuovi spazi per garantire formazione a chi appunto attraverso la formazione può dare qualità nel lavoro che andrà ad occupare. Peraltro oggi sempre più spesso le aziende del territorio ci dicono che mancano alcune figure professionali ed è anche per questo che l'Emilia Romagna ha chiesto insieme a Veneto e Lombardia la cosiddetta autonomia differenziata perché è una parte di risorse che oggi spende lo Stato, vogliamo non farle più spendere allo Stato che risparmierà e spenderle invece noi convinti che nel territorio sappiamo molto meglio di chi è lontano da qui come si possano impiegare risorse per i bisogni delle aziende da un lato e soprattutto perché un post diplomato, un post laureato possa trovare prima possibile il lavoro. Onorevole, in particolar modo l'integrazione passa per diversi fronti, dallo sport alla cultura fino al mondo del lavoro, un mondo del lavoro che in Emilia Romagna è fortemente, possiamo dire, promosso e dalla regione e da realtà proprio come quella dei Salesiani. Sì, io credo che questi luoghi, luoghi dove si impara un mestiere, dove si crea formazione, dove si fa educazione quindi non solo apprendimento di nozioni ma anche veramente l'imparare a stare insieme a cogliere gli aspetti positivi delle differenze e a gestire anche invece le difficoltà che queste differenze comportano sia veramente il fulcro, il cuore di una politica corretta non solo del lavoro ma anche appunto dell'integrazione. Noi abbiamo bisogno di puntare sempre più sul concetto di integrazione che passa attraverso varie forme di azioni concrete. La prima appunto quella dell'inserimento lavorativo e qui in luoghi come questo centro di formazione dei Salesiani che a Forlì è particolarmente vivace, i Salesiani sono presenti in tutto il mondo, non solo in tutta Italia ma qui a Forlì siamo fortunati perché abbiamo un nucleo veramente molto attivo ma oltre al lavoro ci sono vari aspetti che devono essere considerati e sicuramente rafforzare tutte le politiche di integrazione basata sull'equilibrio tra diritti e doveri aspetto molto importante secondo me è fondamentale anche per quelle politiche di sicurezza di cui oggi sentiamo molto parlare, molto enunciare, fare molti slogan ma nel concreto al di là di fermare qualche arrivo e qualche migrante in mezzo al mare non vediamo niente di concreto.